Io abito fuori Napoli, ho avuto una chiamata che lui stava in coma in sala reanimazione dell'Oreto Mare di Napoli. Mi sono recata il 31 di ottobre, ho parlato con i medici e mi avevano detto che lui ha avuto una lesione ai pormoni, però mio fratello si trovava con gli arresti domiciliati. Ho saputo che in un sola giornata ha fatto due evasioni, l'hanno portato il giorno dopo, il 22 ottobre al tribunale, c'era il suo avvocato di ufficio che lo stava aspettando e lui è arrivato ma ridotto. L'avvocato l'ha chiesto Luigi cosa ti hanno fatto e lui ha detto avvocato ora non posso parlare. Dopo un paio di ore l'avvocato ha avuto la comunicazione che lui si trovava in ospedale l'Oreto Mare in coma. Luigi Bartolomeo è stato arrestato una quindicina di giorni fa, prima dai carabinieri del suo quartiere e con i carabinieri ha avuto una specie di colluttazione. Poi il giudice ha disposto di nuovo gli arresti domiciliari, però ha evaso un'altra volta gli arresti domiciliari e in questo caso sono intervenute la Polizia di Stato e ha avuto un'altra colluttazione con la Polizia di Stato che d'altronde sono state anche conduse due poliziotti. Comunque il giudice ha disposto il processo per direttissima, è stata condannata un anno e quattro mesi e l'hanno trasferita nel caccere di Poggioreale. Nel caccere di Poggioreale dopo due giorni dal padiglione San Paolo l'hanno trasferita qui, in questo ospedale a Loretta Mar in coma e la famiglia adesso vuole certificare i medici, vogliono sapere in che stato è andata a Poggioreale e in che stato Poggioreale l'ha trasferita qua, questo vuole sapere dalla sua famiglia e anche noi dell'associazione di ex detenuti. Lui era sano, è stato un tossico dipendente, però erano 12 anni che non toccava più niente, però di salute era sano. Ho provato di entrare all'ospedale il primo di novembre mi sono buttato nella sala di animazione, è venuto l'ispettore di Poggioreale e mi ha buttato fuori. I medici purtroppo mi dicono soltanto signora sta in fin di vita, sta fra la vita e la morte, più quello che ci possiamo fare non possiamo fare. Io penso che ci sarà, sarà stato picchiato da qualcuno, voglio giustizia su questa cosa per non far succedere un altro caso Cucchi. Lei perché non si vuole far vedere, perché non denuncia apertamente questa cosa? Perché purtroppo io abito fuori, me ne sono andata da Napoli per dare un avvenire ai miei figli e abbiamo il nostro lavoro fuori. Come può un uomo andare nelle mani dello Stato e ritrovarsi in coma così? Che ha le chimose qua, ce l'ha confermato pure il medico della reanimazione.